Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi.Nel 2021, il noto conduttore televisivo Alfonso Signorini ha aperto il suo cuore e parlato per la prima volta pubblicamente del suo compagno di lunga data, Paolo La coppia ha condiviso quasi due decenni insieme, caratterizzati da una relazione basata sul rispetto reciproco L'anno scorso, Alfonso aveva annunciato la loro separazione dopo 18 anni di convivenza, ma ora sembra che le cose siano cambiate in modo significativo Nel corso di un'intervista recente nel suo programma Verissimo, Alfonso Signorini ha rivelato che lui e Paolo sono tornati insieme Questa notizia è stata accolta con gioia dai fani e dagli amici della coppia, che avevano seguito il loro percorso altalenante negli anni Posso dirti che c'è stato un ritorno importante, ha dichiarato Alfonso durante l'intervista Siamo stati beccati dai paparazzi a Cortina, ed è stata pubblicata una foto di noi due insieme Paolo è il mio storico compagno, e sono molto contento che siamo tornati felicemente insieme Punto la relazione tra Alfonso e Paolo è stata caratterizzata da diversità, con entrambi che conducono vite e carriere separate Tuttavia, il desiderio di ritrovarsi e trascorrere momenti di qualità insieme è rimasto forte Alfonso ha sottolineato che, nonostante le loro personalità differenti, si vogliono molto bene, ed è evidente che la loro connessione va oltre le sfide che ogni relazione può incontrare Abbiamo fatto tanto cammino insieme, ha affermato Alfonso. A volte litighiamo in modo furioso e non ci sentiamo, ma ci tengo a ricordare sempre un gesto che ha fatto mia mamma Punto il ritorno della coppia ha fatto sorgere domande sulla possibilità di un futuro matrimonio Alfonso ha mantenuto un certo riservo, ma non ha escluso la possibilità Chissà cosa potrà succedere in futuro. Un matrimonio? Non dico nulla, ha affermato il conduttore Diciamo che sono 20 anni di storia. Se ci sposeremo, voi due sarete invitati Punto grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video